Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura all'emergenza sanitaria crescono i casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco, registrate nelle ultime 24 ore ben 51 nuove positività. Continuano a salire i contagi in tutto il mondo, dall'inizio della pandemia si contano quasi 2 milioni di morti. Attualmente il paese più colpito sono gli Stati Uniti, seguito da India e Brasile. Presentato oggi nell'Aula Magna del Liceo dei Botti di Torre del Greco, il piano accademico 2021-2022 che vedrà l'introduzione di due nuove curvature per un rilancio concreto dei giovani nel mondo del lavoro. Poi spazio allo sport con la Turris che domani sera ospiterà la Vibonese per l'ultima partita del girone di andata. E chiudiamo con gli eventi Procida candidata a Capitale della Cultura 2022. Esposto il tema del dossier di presentazione dal titolo La cultura non si isola. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Sale il bilancio dei casi di contagio da Covid-19 nel Vesuviano. Preoccupanti i dati di ieri del greco che nelle ultime 24 ore ha registrato ben 51 nuovi casi di positività, di cui 2 in regime ospedaliero e 48 in isolamento domiciliare. E' quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'Asnavoli 3 Sud. Attestate anche 6 nuove guarigioni. Resta a 248 il numero di cittadini attualmente positivi nel comune di Torre Annunziata, 240 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. L'amministrazione Oplontina, insieme all'Ordine dei farmacisti di Napoli e Federfarma, si è attivata per l'iniziativa sociale Un Tampone per Tutti. Test antigenici rapidi gratuiti di screening per l'infezione da coronavirus in piazza Giovanni XXIII della Pace. 10 nuove positività e 3 guarigioni nel comune di Ercolano. E' quanto comunicato dall'Asdl e dalla regione Campania. Al momento quindi i positivi sono 346 a fronte di 1.698 guariti. Dall'inizio della seconda ondata, scrive il sindaco Bonaiuto, abbiamo effettuato 14.027 tamponi. La zona gialla non può essere un liberi tutti, ma dobbiamo continuare a rispettare le norme anticontagio. Nel comune di Castellammare, invece, restano stabili i dati che si attestano sui 3.047 per contagiati e 41 decetuti totali dall'inizio della pandemia. A San Giorgio, il numero dei cittadini risultati positivi al covid nelle ultime 24 ore è di 72. Il sindaco Zinno scrive Il rischio della terza ondata dipenderà dai nostri comportamenti. Il senso di irresponsabilità che ha sempre contraddistinto la nostra comunità giocherà adesso un ruolo decisivo per non magnificare gli sforzi fatti. Il covid ha colpito dall'inizio della pandemia 93 milioni di persone, di cui 51,3 milioni guariti e 1,99 milioni deceduti. Il paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con 23,2 milioni di contagi e 388 mila decessi. Seguono India e Brasile. Crescono le positività in Germania, che ieri ha superato quota 2 milioni dall'inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore. Con i suoi 83 milioni di abitanti, la nazione più popolosa dell'Unione Europea ha registrato altri 1.113 decessi in un giorno, per un totale di 44.994. Cala il dato dei morti in Gran Bretagna, ma resta sempre sopra quota 1.000. Già da qualche mese il Regno Unito è alle prese con la variante inglese, a detta degli esperti più aggressiva e più contagiosa. I tamponi rimangono intanto oltre i 600 mila al giorno, mentre rallenta il ritmo di incremento dei ricoveri negli ospedali, anche se alcuni ospedali di Londra sono costretti a trasferire pazienti in altre città come Newcastle. Preoccupa la risalita dei contagi in Cina. La Cina ha riportato il maggior numero di casi giornalieri di covid-19 in oltre 10 mesi. Secondo la Commissione Sanitaria Nazionale, le infezioni di ieri sono state 144, in aumento sulle 138 di mercoledì, segnando il numero più alto dai 202 casi del 1 marzo. Un sogno che nasce dalla comunione di intenti tra istituzioni, enti ed associazioni. Parte da qui la nuova sfida del Liceo dei Botti istitutore del Greco, dalla valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale del nostro territorio. Presentate oggi nell'Aula Magna due nuove curvature per l'anno accademico 2021-2022. Noi abbiamo un sogno, quello di far sì che istituzioni, enti, associazioni possano collaborare con una comunione di intenti. Il nostro territorio offre grandi opportunità di patrimonio culturale, paeseggistico e proprio da qui dobbiamo partire per valorizzare quello che abbiamo a portata di mano, che spesso ci siamo distratti e noi vogliamo, come dire, educare i nostri alunni, i nostri ragazzi ad avere una visione più ampia delle bellezze che ci circondano, perché se la bellezza salverà il mondo, mi vengono in prestito le parole di Papa Francesco. Tutti insieme, nessuno si salva da solo, ma con la collaborazione di tutti possiamo creare una grande opportunità per i nostri alunni. Noi come associazione abbiamo avuto questa continua attenzione al liceo e uno di noi, una persona amante dell'arte e dell'archeologia, ha ipotizzato la possibilità di poter realizzare un qualcosa che al momento quando ne abbiamo parlato si realizzava solo al nord. Un liceo basato sull'arte, sull'archeologia e noi abbiamo pensato non solo al De Bottis, ma a Torre del Greco, a questa città che deve assolutamente apparire in generale a tutti, in primo luogo i suoi cittadini e poi al mondo intero, alla nazione, come una città di cultura. Una rete che collega il liceo di Torre del Greco all'Università Van Vitelli di Napoli per un concreto rilancio dei giovani nel mondo del lavoro. Nascono nuove curvature al liceo De Bottis con l'incontro dell'Università Van Vitelli. Quanto è importante questa esperienza? È importantissima anche in un momento in cui ci vuole grande coraggio nel mettere in campo nuove iniziative e questo coraggio sarà sicuramente premiato. La collaborazione con l'Università in questi anni è stata fortissima. Peraltro questa linea di tendenza, di forte sinergia tra licei e università è sancita anche a livello europeo e sarà sancita anche nelle prossime Next Generation Plan. Per cui noi siamo presenti con tantissime attività in collaborazione con questo liceo e vediamo benissimo questa nuova iniziativa di grande rilancio. Presenti alla conferenza le istituzioni locali e regionali. Un plauso al dirigente del liceo De Bottis, un plauso agli ex alunni del liceo De Bottis, con la loro Presidente. È fondamentale che parte anche la Torre perché noi abbiamo una realtà della Villa Sora, abbiamo gli ipogei, abbiamo tante nostre realtà che devono essere rivalorizzate. Io per quanto riguarda il grande progetto Pompei, noi teniamo per quanto riguarda Villa Sora dei fondi per arrivare con una stradina a Villa Sora partendo dal Parco La Salle. Quindi diciamo una collaborazione ci sarà anche dal Comune di Torre del Greco. Offrire ai nostri giovani, ma non solo di Torre del Greco, ma di tutto il comprensorio vesuviano, la possibilità di investire in cultura e turismo, che sono due dei segmenti importanti di punta di Regione Campania per quello che devono essere gli sbocchi lavorativi per i giovani. Un liceo classico che si innova, oltre agli studi classici e umanistici, e tenta di esercitare un nuovo appeal nei confronti dei giovani, che piuttosto che pensare di rivolgersi come ripiego ad altri tipi di indirizzi che possono più immediatamente dare uno sbocco lavorativo, oggi possono frequentare anche il liceo classico e il liceo linguistico se magari dopo non hanno intenzione di continuare gli studi con un percorso universitario. Dunque questa è la sfida, è la sfida accompagnata da Regione Campania e da tutte le istituzioni, stamattina abbiamo avuto anche il piacere di avere qui l'Università Van Vitelli, che dà significanza a questa iniziativa, dà valore e sostegno. E se a distanza di 20 chilometri, che distanziano Ercolano e Pompei, abbiamo due dei siti archeologici più visitati dopo il Colosseo, mi piace ricordare che c'è una linea di continuità, che da Ercolano arriva fino a Pompei, passando per Torre del Greco e per Oplonti, e proprio qui a Torre del Greco, nel grande progetto Pompei, abbiamo individuato Villa Sora tra i siti da valorizzare e da sostenere economicamente. Il Ministero dell'Ambiente, vi do un'anticipazione, sta già valutando positivamente questa progettualità e magari nelle prossime settimane parleremo di questa grande iniziativa che potrà essere, come dire, un'altra attrattiva per i giovani che vorranno pensare di frequentare il liceo classico e il liceo linguistico con queste due nuove curvature. Gara in ottura per la Turris, che allo stadio Americo Liguori ospiterà la Vibonese. I Corallini cercheranno la vittoria dopo il buon pareggio ottenuto al San Nicora contro il Bari. Il match chiuderà il girone di andata della compagine torrese, che si ritrova alla diciassettesima giornata con 26 punti all'attivo, che valgono al momento l'ottavo posto in classifica. La squadra di Mister Fabiano dovrà vedersela con i calabresi, che cercheranno alla loro volta di accolciare il meno 6 in favore proprio della Turris. La Vibonese è a digiuno di vittoria dallo scorso 2 dicembre, quando si impose per 2-0 in trasferta contro la Casertana. Soltanto due i precedenti tra le due squadre a Torre del Greco, con un bilancio positivo per i Corallini con una vittoria nella lontana stagione 1951-52 ed un pareggio. La direzione di gara, che si disputerà nella giornata di domani alle 20.45, sarà affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, con gli assistenti Conti, Biffi e Saia. Continuano intanto le riflessioni in casa Turris per le possibili operazioni in entrata ed in uscita. Mancano 17 giorni al rush finale del calciomercato e non sono escluse novità breve, con la società pronta a rinforzarsi nel caso in cui dovessero combinarsi le occasioni giuste. In ogni caso la concentrazione è rivolta verso il campo, con i Corallini chiamati a rispondere all'opportunità di racimolare altri punti importanti per la classifica. Procida candidata a Capitale Italiana della Cultura 2022, presentato oggi in videoconferenza con gli esperti del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, il dossier di partecipazione dell'isola campana. La delegazione procidana ha illustrato durante l'audizione l'importante significato che avrebbe una possibile proclamazione come Capitale Italiana della Cultura. In collegamento il sindaco Ambrosino, la direttrice generale politiche culturali e turismo della regione campagna, Rosanna Romano, e il docente Francesco Izzo, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Van Vitelli. Presentato il tema del dossier dal titolo La cultura non isola, scelto prima della pandemia e di cui significato appare oggi ancora più pregnante. Elaborato quindi un fitto programma che comprende 44 progetti culturali per 330 giorni complessivi di programmazione, tra cui il Green Deal, l'innovazione sociale ed urbana, il turismo lento e la gestione sostenibile degli eventi. Il progetto, presentato da Procida, è stato definito molto bello e ben costruito dal Presidente della Commissione Ministeriale. Lunedì prossimo la Commissione indicherà al Ministro Dario Franceschini il nome della località ritenuta più idonea per raggiudicarsi il titolo per il 2022. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione-tvsiti.it o al numero di telefono 348 6561 484. Grazie e buon weekend. Grazie a tutti.